Ciao a tutti amici e amiche, sono sempre io, e me il piacere che ti riusciamo in un nuovissimo vlog dopo 300.000 anni! Yeee! Non scommetto che non sarò mancata nessuno. Comunque, in questo vlog avevo deciso di rispondere a tre delle vostre domande che mi avete fatto su Google+. Prima di rispondere alle vostre domande, volevo farvi vedere delle cose. Sì, delle cose, sì. Si chiamano poni, non cose. Che stupida. Che ho trovato anch'io queste bustine. Yeee! Probabilmente. Eeeh, vabbè, queste sono della Kitty Mark Magic, ovviamente tutti le avranno già trovate. C'è Twilight, c'è notizia. E ne ho prese due, e ho trovato loro due. Sono, vabbè, Rosluck e Frizzy Pop, che non ci legge niente, ma dettagli. E sono loro due. E sono loro due. Sì, scommetto che a nessuno interesserà, ma volevo farvele vedere. Comunque, scusate se non sono nella stessa postazione, diciamo. Ma fa lo stesso, perché questi sono problemi miei, non vostri. Allora, iniziamo. Allora, Emel Pitcher in Siria, la tua cantante preferita? Katie Perry, perché io amo troppo le sue canzoni, tipo Fireworks. Cioè, è bellissima! Poi, Picture Rainbow Moon. Anche io ho fatto il hashtag AskMoon, se vuoi puoi andarla a vedere. Certo, lo andrò a vedere quando posso. Che ti risponde? Quanti anni hai? 12. Di dove sei? Dell'Italia, ovviamente. Sì, perché non posso dire la regione. Sennò, farai pazzi. Nutella o cioccolato? Bella scelta. Cioè, è un po' difficile, non so cosa scegliere. Tutte e due? Cioè, no, è un cioccolato. Ora, quelli che amano la Nutella mi ammazzeranno, ma sono dei stagli. Poi, Emel Pio preferito e odiato? Allora, quello preferito è Twilight. E quello odiato è Rarity e Pinkie Pie. Sì, perché io le odio. Ora mi ammazzeranno tutti. Poi, hai animali domestici? Se sì, c'è i mostri. Peccato, perché non li ho. Mi dispiace. Mi vuoi bene? Certo, anch'io. Cioè, ti voglio molto, ma molto bene. Io mondo, certo. E quando fai video, dove parli? Alza il volume del microfono, perché non sento qua di niente. Guarda, spero che in questo video si senta. E spero di aver... Spero di aver... Averti accontentata. Poi, Alice Potente. Che ti risponde? Da quanto sei su YouTube? Tipo, un anno, perché avevo iniziato dall'ottobre 2014 a fare video. Credo. Sì, quindi un anno, più o meno. Da quanto sei Pegasister? Sì, sempre da un anno. Ti piacciono gli LPS, Little Pet Shop? Sì, mi piacciono. Un po', poco. Non tantissimo. Posso farti una fanart? Certo che puoi. Principessa preferita? Twilight. E Cadence. Poi rispondiamo all'ultima domanda, perché io sono buona. Che è fatta da MLP Channel Smile. Smile, proprio sorriso, vabbè. Quanti anni hai? 12. Quanti MLP hai? Non lo so. Adesso contarli. Vivendo a dire, tipo, quelle grandi? 5, 6, 7, qualcosa del genere. Quelli piccoli, un casino. Poi, da quanto ti piacciono i Manitel Pony? Un anno. Mi vuole bene, certo. Quante sis? Ho tantissime. Molte. Va bene. Spero che questo vlog vi sia piaciuto. Se volete farmi delle domande, potete farmele tranquillamente qui sotto nei commenti. E io vi risponderò nel prossimo vlog. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!